Anche nell'Unione Europea la dimensione della sicurezza viene sempre declinata assieme alla libertà e alla giustizia, i tre pilastri dell'Unione fino al Trattato di Lisbona. Il diritto alla sicurezza, riconosciuto espressamente dalla Carta di Nica con propria configurazione autonoma, è collocato insieme ai diritti di libertà come strumento per la migliore esplicazione. Occorre dunque essere consapevoli che la sicurezza dei cittadini non si esaurisce nella tutela dell'ordine pubblico, ma richiede l'aduzione di politiche positive per assicurare la piena attuazione dei diritti e dallo stesso modo occorre avere sempre presente che in un sistema costituzionalmente orientato solo il legame e lo stretto rispetto del principio di legalità rende legittimo il potere statale di intervenire, anche in modo coattivo, nelle situazioni che le dono i diritti fondamentali.